ecco la solar bike bicicletta elettrica che non va ricaricata infatti a dare la spinta è l'energia solare quando è ferma le cellule solari disposte sui raggi delle ruote ricaricano la batteria nascosta nel telaio quando è in movimento forniscono energia per alimentare il motorino elettrico il prototipo della solar bike è un progetto danese realizzato da jesper frausig che non ha però ancora previsto un lancio ufficiale sul mercato l'idea è comunque davvero originale